primo tempo avete dominato con due gol nel secondo siete riusciti a mantenere il risultato anche con un uomo in meno ma ne abbiamo due in più qua di uomini è l'uomo qui che fa la differenza è stata la forza della squadra, del gruppo che comunque nei momenti di difficoltà alla fine veniamo fuori abbiamo tenuto duro quindi questa è la nostra forza, l'umiltà secondo voi chi è stato il vostro migliore in campo? tutti, tutti abbiamo giocato bene tutti abbiamo corso, difesa, abbiamo tenuto tutti, anche quelli assenti bene, invece ultima domanda gli obiettivi per quest'anno quali sono? l'obiettivo è sempre lo stesso, è vincere il campionato no, è il terzo posto, l'abbiamo detto quest'anno è il terzo posto lui l'ha detto ma non è quello che pensa il terzo posto perché obiettivamente quello lì è il nostro livello ci sono un paio di squadre molto più forti di noi ci dobbiamo tempo per recuperarli perfetto, va bene salutiamo gli assenti intonato il nostro bomber che quest'anno è stato ben sostituito oggi è stato ben sostituito quindi puoi anche non venire più e l'altro ragazzo che purtroppo è in carrozzina adesso auguri a Roby che è Roberto Franze auguri grazie mille grazie mille grazie mille